Eh no eh, sono andata a Sant'Urano, vieni qua, vieni qua, aspetta, vieni qua, vieni qua. Spergato News, Spergato News, Spergato News, la differenza tra noi e gli altri è che la montagna la conosciamo, ci siamo, sanno il nostro indirizzo e stiamo lavorando seriamente a partire dal Brasimone che deve diventare il polo di sviluppo della ricerca di questa realtà. Io credo che la gente deve avere le idee chiare, se vuole dare una mano alla montagna c'è una coalizione di centro-sinistra che ha governato bene, con tutti i problemi che l'Italia ha, che il mondo ha oggi, che sono tanti, ha governato con serietà prima accorrenza e poi con gentiloni. E dall'altra parte c'è una coalizione di risentimenti e poi ci sono le persone pericolose, Salvini e Cinque Stelle. Se avranno la maggioranza Cinque Stelle e Salvini, ragazzi, allacciamoci le citture di sicurezza, perché dietro l'angolo c'è la semina di odio, di violenza e forse anche qualche rigurgito del passato. Per cui mi sembra che le cose siano chiare, la nostra coalizione è fatta da moderati e da uomini e donne dei pirini. Siamo tutti assieme perché dobbiamo fermare l'ondata dei banderi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.